Angelo Serra, un'annata davvero irripetibile per la PGS Auxilium Genova con tre promozioni, tre grandissimi risultati ma non solo. Io partirei dagli esploi ottenuti nella ginnastica ritmica artistica rispettivamente promossa in A1 e in A2. Sì, veramente un grande risultato, un ringraziamento grande a tutte le insegnanti che abbiamo, che sono veramente eccezionali, ma non solo, alle famiglie perché comunque sono state molto vicine alle ragazze che si sono impegnate tantissimo, hanno avuto degli allenamenti costanti e molto intensi e quindi le famiglie hanno un grandissimo contributo e alle ragazze che hanno conseguito il risultato sicuramente sono le principali artefici di questo successo. Raggiungere due volte la Serie A in una stagione segnata dal Covid è qualcosa davvero di straordinario? Eh beh sì, è una cosa straordinaria, oltretutto con mille difficoltà in quanto, come tutti sappiamo, tutte le società sono in difficoltà economica, quindi avere questi risultati con gare fatte in tutta Italia, quindi con delle trasferte, delle spese enormi, insomma è stato un grande sacrificio, ma è stato fatto molto volentieri dalla società e i risultati si sono visti e ci compiacciamo molto di quello che è successo. Due anni fa, lo ricordiamo, le medaglie ottenute agli europei mondiali da Segatori e Cella, avete insistito su questa strada, ci sono altre promesse che possono seguirne le orme? Beh certo, certo, adesso noi abbiamo anche ragazze che sono nell'ambito della nazionale italiana, quindi i risultati quest'anno ci sono stati e ci saranno sicuramente anche un altro anno, un altro anno con l'A1, soprattutto in ginnastica ritmica. Il problema sarà veramente quello delle gare che si faranno in tutta Italia. una straniera che d'obbligo si dovrà prendere, perché tutte le società di A1 hanno la straniera, quindi saranno dei costi, speriamo che la pandemia finisca, che si possa ricominciare ad avere i risultati, i numeri che avevamo prima della pandemia e quindi poter sopportare questi costi. anche se i costi ci saranno sempre, perché comunque ci mancano, ci mancano veramente le strutture dove poter allenare queste ragazze che devono sempre migrare in tutta la Liguria per poter avere delle palestre adeguate, per poter, anzi non solo in Liguria ma anche a Milano o a Tortona o a Savona, come la ginnastica artistica, perché le strutture a Genova purtroppo sono carenti e quindi non riusciamo a fare gli allenamenti adeguati alla loro categoria. Un altro motivo di soddisfazione arriva dal basket con una bella promozione dalla Serie D alla Serie C. Sì, un'altra grande soddisfazione, un altro grande problema, in quanto per giocare la Serie C c'è bisogno dei palazzetti con una dimensione adeguata alla categoria e purtroppo Via Cagliari non ce l'ha. Quindi anche lì dovremmo trovare delle soluzioni che potrebbero essere a nervi dall'ardita nel nuovo pallone oppure al Cus, ma comunque sempre in trasferta e sempre con dei disagi che purtroppo ci porteranno spese di affitti e il pubblico che mentre a Marassi in Serie D avevamo il palazzetto pieno purtroppo ci sarà poca gente, anche se è gratis l'entrata, le partite si vedono senza spendere una lira, però un conto è giocare con il pubblico e un conto è giocare senza pubblico e ce ne accorgiamo anche nel calcio.